Il report scientifico Questo è un report scientifico. Contiene informazioni utili e dati che possono aiutarci ad affrontare il cambiamento climatico. Ma purtroppo è un media disegnato da esperti e che molti di noi non riescono a comprendere. L'ho scaricato da internet, quindi è di facile usufrizione. Io, fondamentalmente, traduco questo media in questo. In immagini sexy, chiare e potenti che possono essere diffuse sui canali pop pop a disposizione di tutti, come i social network, le mostre e così via. Questa, per esempio, è un'immagine evocativa di una serra in Islanda che vive in totale simbiosi con il vulcano che sta alle spalle. Quindi prende l'energia geotermica, coltiva con le ceneri vulcaniche e rappresenta per me quel tipo di obiettivo che l'uomo sta cercando, cioè quel rapporto di simbiosi tra uomo, natura e tecnologia. Io ho iniziato questo percorso vent'anni fa nella foresta mazzonica durante un viaggio da informatico con la prima macchina fotografica in mano. E lì ho costruito una consapevolezza maggiore e un'importanza forte della natura per me, cioè quello che mi faceva stare veramente bene, e anche della fotografia applicata alle soluzioni. E vi porto ora in un tour, in questo, chiamiamolo, report visivo di alcune delle soluzioni che ho trovato e delle storie avvincenti. Qui siamo di fronte a un uomo che, insieme ad altri mille uomini, decommissionano da oltre 30 anni una centrale nucleare nel nord-est della Germania, che dava energia a tutta Berlino. Pulisce metallo e superfici contaminate per rimetterle poi sul mercato. La rivoluzione energetica tedesca è un programma governativo che si pone come obiettivo di spegnere 22 centrali nucleari entro il 2022. Un reattore nucleare dura 30 anni. Sempre dentro questa storia io cercavo un simbolo di questa rivoluzione tedesca e ho trovato questa torre di raffreddamento che è stata trasformata in una giustra, proprio a rappresentare la speranza di questo paese e a diventare un'icona. Un'icona che ritroviamo anche in questo inceneritore a Copenaghen, ultima icona, mi viene da dire, industriale nata sul pianeta, che ho fotografato durante il giorno della sua inaugurazione. È un inceneritore ad emissioni zero, capace poi di trasformarsi e lavorare senza spazzatura ma con biomassa, che funziona anche come pista da sci, come potete vedere, e come centro di educazione per i cambiamenti climatici. Quindi è un punto di connessione tra i muscoli industriali e la cultura delle persone. Spesso queste cose succedono in Europa, siamo molto più avanzati rispetto a altre parti del mondo. E qui siamo di fronte a una foresta di turbine eoliche nel Mar Baltico che cerca di creare l'energia rinnovabile del futuro per un'alleanza di paesi del Nord Europa. Questo è un traghetto che è stato trasformato in casa per questi tecnici che io amo chiamare Energy Cowboys, che vivono in alto mare nel freddo e che escono tutte le mattine a installare queste turbine eoliche per creare questa energia. e quando parliamo di dati importanti non possiamo dimenticarci le proteine. Le proteine sono un grosso problema, la creazione di proteine è un grosso problema per l'impatto ambientale. e per esempio qui siamo nel centro di Londra, proprio esattamente nel centro, dove questa start-up coltiva insetti da cibo locale e scarti di caffè che vengono poi dati agli animali da mangiare. Ed è un esempio di economia circolare che può creare veramente un vantaggio nell'impatto ambientale nella creazione delle proteine. Ma anche noi, come diceva giustamente Luca, abbiamo bisogno di coltivare di più, molto di più, con un minore impatto. E questa è la casa del contadino del futuro in Olanda. È circondata da serre automatizzate e ci può far immaginare come il futuro dell'agricoltura potrebbe essere fra qualche anno. Sempre in un processo di economia circolare dobbiamo assolutamente recuperare quelle abitudini del passato che abbiamo perso, dove non si buttava via nulla, cioè è proprio l'altro ieri. Il distratto tessile riciclato di Prato rigenera lana dalla spazzatura tessile. È la prima volta che mi trovo di fronte a una storia dove il futuro assomiglia al passato. E dobbiamo anche ricordarci di un alleato molto importante, che è la natura. I processi naturali devono essere riportati al centro dell'equazione climatica. Questo bioreattore di alghe, per esempio, pulisce le acque sporche di una piccola cittadina del Montana negli Stati Uniti e restituisce a sua volta una polvere verde naturale che può essere trasformata in bioplastica. La natura salva la natura, come le poseidone oceaniche. quella macchia nera di cui abbiamo paura o confondiamo con alghe quando si spiaggia. In realtà contengono il segreto delle acque cristalline del Mediterraneo, come la Sardegna dove ho scattato questa foto di recente. E pensate che sono capaci di assorbire quindici volte in più di una pianta della Mazzonia della stessa dimensione. Cioè praticamente sono la nostra Mazzonia che però soffre a causa delle nostre ancore. Un paradosso. Insomma, in questo tour che vi ho fatto ci si accorge che ci sono forti potenzialità, che ci sono tantissime cose presenti nell'adesso. Cioè sono cose che esistono e che possono essere scalabili e ripetibili. E quindi dobbiamo osservare il presente per scatenare un futuro più sostenibile. E comprendere e far comprendere di più la scienza. Perché dobbiamo ascoltarla, ma abbiamo bisogno di comprenderla meglio. Quindi io cerco di tradurla in un modo più comprensibile per questo motivo. Perché dobbiamo riuscire a coinvolgere più persone possibile nel cambiamento per poter agire come un'unica forza. Utilizzando i canali popolari. Per esempio mostre, Instagram. Tutto ciò che ci può essere utile per diffondere questo messaggio. Perché di base noi abbiamo bisogno assolutamente di riagganciare quell'anello spezzato tra speranza e futuro. Grazie. Grazie. Applausi. Grazie. 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 Grazie.